ben ritrovati con il nostro focus su cancello arnone oggi abbiamo con noi il vice sindaco l'assessore angelo caputo assessore e tempo di pnrr e tempo di progettualità su pane per i vostri denti voi a cancello arnone siete abituati a macinare progetti come siete messi come state lavorando buon pomeriggio a tutti e sì stiamo lavorando come già abbiamo detto nei nostri precedenti incontri e il nostro lavoro ora è questo cioè quello di preparare progetti di partecipare a tutti i bandi quindi che ovviamente quelli che riusciamo e quindi da questo punto di vista siamo operativi diciamo per quanto riguarda la maggior parte dei settori per i quali fino ad adesso sono diciamo usciti bandi di partecipazione quindi sia l'edilizia scolastica sia per l'ambiente sia per quanto riguarda le opere infrastrutturali quindi da questo punto di vista diciamo adesso è fase di progettazione quindi confidiamo che nei prossimi mesi di raccogliere quindi il frutto anche di questo lavoro intenso non c'è solo il pnrr insomma sul piano della progettazione qualche frutto mi pare che l'avete già raccolto insomma anche fuori stagione diciamo così in questi giorni sono arrivati un po di soldini a cancellarlo e sì diciamo oltre che per per i progetti di cui avevamo già parlato nelle ultime settimane abbiamo avuto diciamo ulteriori buone notizie diciamo così si è già detto del bene confiscato per il quale abbiamo avuto un finanziamento di 150 mila euro per la trasformazione in fattoria sociale poi abbiamo ottenuto un ulteriore finanziamento di 20 euro dalla provincia di caserta per quanto riguarda la recensione dell'oasi di carichiano in particolare intendiamo utilizzarli per la realizzazione di guardrail nella strada quindi adiacente quella che costeggia l'oasi di carichiano un ulteriore finanziamento ministeriale che utilizzeremo per la ristrutturazione o meglio per la manutenzione straordinaria di alcuni ambienti della casa comunale poi ancora un ulteriore finanziamento di 29 mila euro che abbiamo ottenuto per l'adeguamento della centrale termica della scuola di arnone da parte dell'ambito c10 quindi comune che di cui è capofile il comune di mondragone e poi infine un co un finanziamento di 25 mila euro per l'arredo urbano che diciamo la la sistemazione e la realizzazione della piantumazione di tutta di tutte le arterie principali quindi sostituzione degli alberi che eh ci sono e ovviamente in modo sostituirli in modo uniforme anche tenendo conto quindi del di di estetica quindi questo diciamo quello che diciamo che che nelle prossime settimane ci avremo anche qualche altra novità al di là delle novità ci sono invece le cose che sono in corso oggi cancellare non è un comune cantiere facciamo un po il punto solito sui lavori sì allora i lavori stanno procedendo più o meno tutti in modo abbastanza spedito per quanto riguarda le le vasche di accumulo di acqua confidiamo che nel mese di aprile eh possano essere messe in funzione eh il circolo per anziani quindi adiacente alla villa comunale e in fase di ultimazione bisogna eh solo eh completare la parte esterna eh per la scuola media per quanto riguarda i lavori eh della scuola media anche quelli sono in fase di ultimazione così come la pubblica illuminazione adesso stanno completando la parte sulla via eh Santa Maria a Cubito e infine la piscina eh comunale sono iniziati da qualche settimana i lavori quindi di realizzazione della struttura che poi sorreggerà la copertura quindi diciamo da questo punto di vista anche eh per il bel tempo quindi i lavori stanno procedendo in maniera abbastanza spedita. Perfetto. L'assessoriola ringrazio per la solita disponibilità rinnovo l'appuntamento con tutti gli amici che si seguono al prossimo giovedì sempre alle quattordici e trenta sempre con il nostro focus su Cancello Arnone. Un saluto a tutti. Grazie, buon pomeriggio, saluto a voi.